Forse potrebbero essere le uniche ultime elezioni comunali a turno unico per il comune di Rosà, la cui popolazione ha sforato i 14.000 abitanti e si avvicina in piena espansione alla soglia dei 15.000, che sul versante delle amministrative è almeno cuce sul petto il nome di grande città, riservando a questo doppio turno di voto con ballottaggio nei casi previsti. Per la tornata 2022 però sarà ancora un turno unico con elezione diretta del nuovo primo cittadino con il criterio della maggioranza relativa. Ne basterà anche solo uno in più degli avversari. Nel caso di Rosà, dell'avversario, trattandosi di una corsa a due, gli effettivi votanti maggiorenni nei 16 seggi allestiti domenica 12 giugno saranno 12.814, chiamati a scegliere su un ventaglio di tre candidature alle poltrone e fascia tricolore di sindaco, oltre all'assemblea cittadina composta da consiglieri comunali di minoranza e maggioranza. Per ricordare che l'elezione dei vertici dell'ente locale è abbinata alla consultazione popolare dei cinque referendum. Cambio della guardia obbligato al termine del secondo mandato di Paolo Bordignon di Area Lega, che dopo dieci anni di servizio nel Dopo Lanzarin, assessore alla sanità in Regione Veneto, cederà il testimone all'eletto in senso letterale dai rosattesi chiamati ad esprimere le proprie preferenze. Toccherà loro confermare o smentire la continuità di oltre 25 anni consecutivi di governo locale affidato ad esponenti di centrodestra a Lega Nord. Alle amministrative 2017 erano in tre a concorrere per la massima carica. Bordignon a 65%, abbattere nettamente il civico Flavio Michele e il pentastellato Paolo Stragliotto. A mettere Pepe già nei mesi di rincorsa verso la tornata 2022 è stata la querella su motto e logo delle due liste in corsa. Due nomi simili, se per non dire quasi identici, si amo Rosà e si amo Rosà, che solo la punteggiatura distingueva, lasciando però un'inevitabile scia di polemiche tra le parti in causa, oltre che di confusione tra gli elettori. Grazie.